Il comitato Fosso Grande, Vescara Spoltore, torna a sollecitare interventi risolutivi perché teme proprio che in caso di maltempo si possa verificare qualcosa di simile a quanto accaduto nelle Marche. Allora, proprio per questa denuncia abbiamo in collegamento dal posto, proprio da Fosso Grande, la nostra Gigliola Edmondo. Buon pomeriggio Gigliola. Sì, direttore, buon pomeriggio con Andrea Berardinelli. Ci troviamo in Naviale Abruzzo, in territorio di Spoltore. Sono in compagnia di alcuni dei componenti del comitato Fosso Grande per tornare a lanciare un nuovo appello, l'ennesimo perché è un problema annoso quello del quale parliamo e cioè in caso di maltempo l'esondazione produce allagamenti in questa e nelle aree limitrofe. Alla luce di quanto avvenuto recentemente nelle Marche, il comitato è fortemente preoccupato. C'è la promessa di futuri e immediati interventi, ma chiedo subito ad uno dei portavoce del comitato, al professore Alfonso Nori, al momento qual è la situazione e quali sono i vostri principali timori? Allora, il Fosso Grande è diventato un problema critico almeno dal 2 dicembre 2013, quando ci fu la prima esondazione disastrosa, la prima alluvione. Successivamente, sotto pressione del comitato civico che si è costituito alla bisogna, sono stati eseguiti dal genio civile della regione Abruzzo lavori per 600 mila euro. Stiamo parlando del 2016, lavori che sostanzialmente sono consistiti in una deforestazione un po' del corso del fiume, dell'alveo di Magra, che si sono rivelati insufficienti di tal che il 10 luglio del 2019 abbiamo avuto un'altra esondazione. È un'altra esondazione, questa volta che ha colpito di più la zona di via del circuito di Pescara. Le pressioni del comitato sono rimaste insistenti e quindi oggi abbiamo avuto una risposta il 27 di aprile del 2022, per l'appunto, dal servizio lavori pubblici del comune di Pescara, che è il capofila attuale dei finanziamenti interministeriali che assomano in due tranche in tutto 1 milione e 700 mila euro. Una prima tranche, dice la sezione lavori pubblici del comune di Pescara, dovrebbe essere immediatamente utilizzata dal maggio scorso, è pari a un netto di circa 560 mila euro, al netto degli oneri accessori, che sono pesanti, progettazione, esecuzione, assicurazione. La situazione è questa che vedete adesso qui. Una nuova onda di piena qui non troverebbe alcun tipo di deflusso, perché il canale è sostanzialmente ostruito da 50 anni di incuria, di mancata manutenzione, piena di detriti, ma soprattutto dei fanghi di due sondazioni disastrose, come abbiamo detto. Quindi noi chiediamo agli amministratori, soprattutto alla città capofila, al comune capofila, che è Pescara, dei finanziamenti e quindi degli interventi esecutivi, di raggiungere in breve tempo almeno una richiesta di finanziamento ulteriore, perché si possa realizzare anche un'ipotesi di canale scolmatore, di canale derivato, che lungo via Prati faccia defluire le acque di piena nei momenti critici. Il totale della somma qui che ci viene proposta dal comune di Pescara è di oltre 2 milioni e 200 mila euro. Attualmente ci sono lordi 1 milione e 700 mila euro in cassa. Ringrazio il professor Nori, il dottor Piero Mambella e il dottor Mario Di Persio, che sono i componenti del comitato. Carmine, se non hai altre domande io li ringrazierei e ringrazio anche Andrea Berardinelli per la parte tecnica. Grazie a tutti.